Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con informazione. Il 29 febbraio di un anno fa veniva riscontrato il primo caso di Covid su un cittadino del Friuli Venezia Giulia. È passato un anno in quella che poi è diventata la nostra realtà. La pandemia in Friuli Venezia Giulia iniziava esattamente un anno fa. Era il 29 febbraio del 2020 quando veniva individuato a Gorizia il primo residente nella nostra regione colpito dal coronavirus. Un cinquantenne goriziano che l'aveva contratto all'ospedale di Treviso durante la visita a un parente. Il giorno dopo, il primo marzo, i contagi erano saliti a quattro. Uno a Trieste e tre a Udine e venivano individuati i primi focolai. A Remanzacco, ad esempio, la moglie di un assessore comunale intervenuta giorni prima a un convegno di agronomia, contagiava il marito e a cascata mezza giunta così anche a Trieste per altri partecipanti al convegno. Insomma, il virus comincia a diffondersi nelle case, negli uffici e nelle fabbriche e il 3 marzo entra in Consiglio regionale con il primo positivo Igor Gabrovec della minoranza slovena. Il 7 marzo la prima vittima con Covid alla Casa Serena di Trieste e iniziano le prime chiusure, quella degli impianti sciistici, il 9 marzo per poi arrivare alle decisioni del Governo centrale che istituisce i lockdown e iniziano i 70 giorni del confinamento previsti dalla fase 1 della lotta al coronavirus. Un anno fa, il 29 febbraio, non lo sapevamo ancora quanto, quella polmonite che si era verificata in una città della Cina centrale avrebbe sconvolto le nostre vite. Era appena arrivata la notizia che il lunedì successivo gli studenti, gli alunni, sarebbero tornati a scuola. Allora, ha deciso la regione, poi il paziente zero e quella tragica escalation che ci ha portato fino ad oggi. E le varianti del Covid sono effettivamente più contagiose su tutte le fasce d'età, compresa quella pediatrica. Grazie. Grazie.